Ciao a tutti belli e brutti, buonasera da Michelone il Grande, buonasera a tutti Milanisti, pensavate che partivo con il solito sporcaccione che abbiamo in banchina e invece no, e invece no Milanisti, Milanisti, Milanisti è un po' di giorni che faccio un po' il video sul Milan ma ovviamente le notizie della Juventus le sapete ma ci sono notizioni, colpi, botti da parte di Milan non indifferenti, ragazzi accendo perché mi rilasso stasera mi rilasso anche un po' di molle di testa insomma notizioni in Milan avete la mia solidarietà, Milanisti, e vi spiego il perché state provando all'incirca quello che stiamo provando noi, Juventini, da un po' di anni dal dopo Cardiff ora voi lo state provando nell'ultimo annetto poi le notizie che sono arrivate adesso di Massara e Maldini un po' hanno sconvolto i piani ma qualcuno aveva già capito di che pasta è fatta la società del Milan quando tu hai ormai dirigenze che pensano solo a business cioè la Juventus ormai è un business ormai non è più il calcio di qualche anno fa la Juventus, quando tu fai la birra della Juventus e Superleg che tu pensi che poi della Superleg lì faremo un video a parte sono arrivato oggi ho visto la notizia altra venduta anche lì mamma mia mamma mia mamma mia Juventus quanto in basso sei caduta quanto in basso sei caduta mamma mia guardate se sapevo che andava a finirla così questo canale lo aprivo parlavo di altro di braccio di ferro di non so non so mi sarà inventato qualcosa altro in questo canale ma se avessi saputo che la Juventus andava a finire a queste condizioni qua non aprivo il canale mi dispiace perché vedere una Juventus in queste condizioni no quindi mi riallaccio sul discorso iniziale che anche voi milanisti cominciate a a penare come peniamo noi solo che voi ci siete arrivati quest'ultimo anno qua noi invece sono già anni 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 che diciamo che la nostra dirigenza è una dirigenza di merda diciamo che in proporzione siamo lì perché voi voi avete un proprietario che è un banchiere a loro interessa il business come noi in un'altra versione ma siamo lì ma a questi qua di far vincere il Milan ascoltate bene quello che vi dico ma lo avrete già capito di far vincere il Milan a questi qua non gliene frega un cazzo a loro interessa arrivare nei primi quattro posti prendere i soldi per andare in Champions League dove ci sono i dindini e stare lì galleggiare a loro magari si arriva allo scudetto bene ma a loro non interessa le banche e i cinesi le banche e i cinesi sono i peggiori proprietari che una società di calcio può avere guardate io preferisco avere un arabo almeno quelli lì sono pieni di soldi spendono non gliene frega un cazzo se vincono vincono se no ci divertono ma buttano i soldi non gliene frega niente per quello io punto tanto sul fatto che Elkan venda questa cazzo di Juventus perché abbiamo capito che non gliene frega un cazzo della Juve lo abbiamo capito però andare a vendere il culo adesso a vendere il culo ad Allegri ma vi rendete conto che questo per 40 uno che fattura 4 miliardi e mezzo di euro all'anno sapete quanti sono 4 miliardi e mezzo non 4 milioni e mezzo 4 miliardi e mezzo di euro all'anno è un'infinità e tu non sei buono di tirar fuori 40 milioni per tirartelo fuori dal cazzo ve lo giuro ragazzi se io fossi un miliardario telefonerei al tipo al canile ciccio ascolta li pago io 40 milioni a quello lì glieli pago io basta che te lo levi dal cazzo però lo liquido io glieli do io in mano glieli do io in mano i 40 milioni ve lo giuro che farei questo se fossi un miliardario appassionato della Juventus come sono io tu mandalo via però lo liquido io lo liquido io di persona quello vi assicuro che quello non allena più si prendi 40 milioni però non allena più garantito comunque questo volevo dirvi milanisti solidarietà perché cominciate a provare anche voi quello che proviamo noi da anni perché vi capisco cosa vuol dire avere una società di merda che non gliene frega un cazzo della squadra perché ormai dovete rendervi conto che qualsiasi squadra ormai è tutto business il calcio è questo e io sono orgoglioso di aver vissuto agli anni 70 80 90 forse qualche anno qualche anno 2000 i primi anni 2000 poi siamo andati così ma vi dico io che il calcio prima o poi farà un botto un botto perché non può non può reggere questo il calcio non può reggere non so quanti anni durerà ma non reggerà questo questo volevo dirvi come secondo e ultimo video di giornata ci vediamo alla prossima iscrivetevi sempre al canale perché Michelone vuole bene a tutti basta che siano brave persone un bacione a tutti buonanotte a tutti e buon continuo ci vediamo alla prossima